Siamo dispiaciuti, arrabbiati il giusto perché ci sentivamo di aver affrontato la partita in maniera giusta potevamo chiudere il primo tempo in vantaggio, abbiamo fatto un buon primo tempo nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più la loro qualità, un po' di stanchezza perché loro ti portano comunque a dare tanto punto di vista fisico e dopo quando si sono passati in vantaggio si è complicato un po' troppo Prima del loro dilagare finale il Parma aveva anche avuto un paio di ottime occasioni anche forse di più dell'Atalanta, come le hai viste? Sì, avevamo avuto delle buone occasioni e il ramarico appunto come dicevo prima non essere riusciti comunque a chiudere il primo tempo in vantaggio ci avrebbe dato qualcosina in più dal punto di vista mentale e fisico nel secondo tempo l'avrebbe indirizzata un po' di più verso quello che piace a noi dispiace, dispiace perché sulla prestazione penso non si possa dire niente abbiamo dato tanto tutto e loro, non c'è da dimenticare loro, sono una grandissima squadra Hai inciso di più la loro maggiore corsa tecnica nel secondo tempo oppure qualcos'altro secondo te? No, è stata una serie di cose loro palleggiano molto bene nel secondo tempo noi ci siamo allungati leggermente loro quando hanno avuto un po' più di spazi sia fisicamente che tecnicamente sono molto forti purtroppo ci hanno fatto gol Ci racconti l'azione del primo gol? Il pressing alto è stata una cosa che aveva chiesto in settimana ad Aversa soffia palla a puzzle e ci puoi lanciare nello spazio Gervinio? Sì, era una cosa che avevamo provato il mediano in questo caso doveva occuparsi del loro trequartista nonostante si abbassasse molto è andata bene anzi, dispiace ancora di più perché fa ricordare che siamo passati in vantaggio e purtroppo abbiamo perso Nella ripresa avete cambiato modulo, modo di giocare temavate un po' l'Atalanta soprattutto sulle corsi esterne? Sì, abbiamo cambiato qualcosa non tanto per limitare l'Atalanta ma tanto per riuscire a fare qualcosina a noi di più a livello offensivo ci siamo riusciti poco abbiamo creato un po' di confusione non ci ha aiutato questo tipo di cosa però ripeto, giocare contro l'Atalanta e contro questa Atalanta davvero è dura Come vi preparate alla trasferta di Frosinone? Come sempre noi siamo sempre ripartiti nei momenti difficili nei momenti più belli adesso è un periodo un po' di calo e noi ci rendiamo sempre al massimo e come abbiamo sempre fatto io sono qua da due anni e mezzo ne abbiamo vissute tante e non è complicata come altre volte però ci dà qualcosina in più per andare a Frosinone e cercare di fare una grande partita Ti chiedo ancora sulla tua prestazione sei stato tra i migliori del Parma oggi anche con Kuzka al centrocampo qualcosa sta crescendo nel reparto che ha un po' sofferto anche numericamente nelle ultime settimane Stiamo crescendo un po' tutti perché c'è una squadra che ha bisogno l'uno e l'altro nessuno singolarmente riesce a fare cose straordinarie se tutti gli altri non danno comunque una mano ci è venuto a mancare qualche giocatore ci dispiace un sacco perché ci potrebbe dare una grande mano ma fa parte del gioco come abbiamo sempre fatto ci ricompattiamo guardiamo gli errori e ripartiamo grazie guardiamo grazie grazie grazie